Le problematiche legate ai notevoli ritardi dell'Ufficio del Genio Civile della provincia Batta al centro di una conferenza stampa organizzata dall'Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e dal Collegio dei Geometri della provincia di Barletta-Andriatrani. Sentiamo. Notevoli ritardi dell'Ufficio del Genio Civile della provincia Barletta-Andriatrani, una conferenza stampa congiunta per denunciare questa situazione. Noi come ordini professionali, ingegneri, architetti e collegio dei geometri abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa per evidenziare una situazione molto anomala. Noi non siamo qui a lamentare un qualcosa nell'interesse di quello che è l'operato degli ingegneri, è sempre nell'interesse della collettività. Collettività che in questo periodo risente moltissimo dei ritardi legati alla impossibilità dell'Ufficio del Genio Civile ad espletare sopralluoghi all'esterno. E' anche importante una precisazione, ci tengo a farla, l'Ufficio del Genio Civile tra Barletta e al suo interno ha delle risorse umane valide e riescono a smaltire il lavoro all'interno. Però adesso sono diversi mesi che non riescono ad uscire fuori, perché manca la macchina. E' quasi mortificante stare qui ad evidenziare questa cosa qua. Però il fatto che loro non riescono a fare il controllo del territorio, a verificare le costruzioni, considerato che le nostre leggi nazionali prevedono la verifica quando ci sono le autorizzazioni, i sorteggi e queste cose qua, le pratiche non si chiudono. Non si chiudono significa che non si ritirano i collaudi statici, non si può fare l'agibilità, gli appartamenti non si possono vendere. C'è tutto un discorso anche di carattere economico veramente pesante e impegnativo che chiaramente altera tutto il funzionamento. Noi nel mese di ottobre abbiamo già avuto un incontro con la provincia e ci fu garantito, assicurato, all'epoca eravamo da capo con i presidenti degli architetti e il presidente dei geometri, evidenziamo questo discorso qui, ci fu garantito che le cose avrebbero ripreso a funzionare ma non è successo nulla. Adesso la situazione è veramente incancrinita, cioè noi siamo fermi. L'ufficio al suo interno funziona, dopodiché non escono fuori. Non escono fuori perché non hanno il mezzo, perché non hanno le autorizzazioni per utilizzare i mezzi nostri, perché i mezzi pubblici non possono condurre il tecnico nel territorio e pertanto le pratiche non possono essere definite. Siamo qui per ribadire concetti che abbiamo espresso nei mesi scorsi al presidente della provincia e ai funzionari per evidenziare che il comparto delle costruzioni che già soffre di un periodo ormai lungo di crisi economica non possiamo continuarla ad alimentare. Per non alimentarlo abbiamo bisogno di strumenti e di risorse umane. Gli uffici funzionano, ma tutto questo sta creando un po' disagio alla collettività. Quindi quello che noi chiediamo alla provincia non sono più promesse, abbiamo bisogno di risposte immediate, urgenti, perché abbiamo bisogno di completare le opere. La nostra denuncia all'opinione pubblica che abbiamo deciso di fare oggi va nella direzione di sensibilizzare intanto l'opinione pubblica e gli operatori che sono direttamente coinvolti in queste attività procedurali di competenza dell'amministrazione provinciale, ma soprattutto anche per sensibilizzare i responsabili della governance politica e dell'amministrazione provinciale per rendergli conto che questi ritardi e queste inefficienze che non vengono messe in agente con delle azioni che vanno nella direzione di trovare una soluzione rappresentano un danno per tutta la collettività.